La RVM Italia ha presentato ricorso contro il blocco delle esportazioni. L'amministratore delegato Fabio Sgarzia ha esposto le ragioni dell'azienda nel corso della prima udienza sul ricorso al TAR del Lazio. Diminuiscono i contagi ma cresce il numero delle scuole chiuse. Tra i sindaci che hanno disposto la chiusura di scuole, Mauro Usaia di Iglesias, Massimo Impera Santadi, Paolo Truzzo a Cagliari. Romano Brodi aprirà le celebrazioni della Facoltà di Scienze Economiche. L'evento in modalità online rientra nel programma delle celebrazioni per i 400 anni dell'Università di Cagliari. La Torres cambia nuovamente guida tecnica. La sconfitta interna con il team Nuova Florida è costata la panchina ad Archimede Graziani, provabile l'arrivo di Mauro Giorico. Buon martedì 20 aprile 2021 a tutti i telespettatori di Canale 40 ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo come avete potuto sentire dai titoli con la notizia che la RVM Italia ha presentato ricorso contro la revoca delle licenze di esportazione verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi. Revocare le licenze di esportazione a RVM Italia era proprio l'unica soluzione, ha detto Fabio Sgarzi, amministratore delegato di RVM Italia, alla vigilia della prima udienza sul ricorso al Tar del Lazio. Esistevano alternative meglio ponderate che consentissero di tenere insieme tutti gli interessi in gioco, senza cioè creare così gravi pregiudizi all'azienda e al suo territorio. Il Ministero degli Affari Esteri ha mai dialogato con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti per trovare una via che rassicurasse su un utilizzo degli armamenti in accordo alle norme internazionali. Si è tenuto conto del danno economico, almeno 250 milioni di euro, derivante all'azienda dalla cancellazione di contratti in corso che seguirà le revoche. Queste sono tutte domande, ha aggiunto Fabio Sgarzi, alle quali solo una giustizia che riteniamo attenta ed imparziale potrà dare risposte chiarificatrici. Voltiamo pagina. Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha disposto la chiusura in via precauzionale ed eccezionale dal 19 al 25 aprile delle scuole. Scuola dell'infanzia di Campo Romano, Istituto Comprensivo Nivola, Scuola Primaria Villaggio Operaio, Istituto Comprensivo Eleonora d'Arborea, sezione della Scuola dell'infanzia che ha sede nello stabile della Scuola Elementare del Villaggio Operaio, Istituto Comprensivo Eleonora d'Arborea. A seguito dei risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi è stata ordinata anche la riapertura delle scuole. Dell'infanzia di Serra Perdosa, Istituto Comprensivo Nivola, Scuola dell'infanzia via Pullo, Istituto Comprensivo Eleonora d'Arborea e Scuola dell'infanzia Baby Boom Cooperativa Sociale Onlus via San Salvatore 49. Ci spostiamo a Sant'Adi. Il sindaco Massimo Impera ha firmato una nuova ordinanza con la quale ha sospeso per un ulteriore periodo l'attività didattica in presenza della Scuola dell'infanzia di Sant'Adi. La misura precauzionale e temporanea adottata, ha rimarcato Massimo Impera, sarà valida fino al 23 aprile compreso, salvo diverse indicazioni da parte dell'ATS che ha disposto l'esecuzione dei tamponi molecolari sia per i docenti che per gli alunni. In attesa delle indagini epidemiologiche, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzo ha disposto l'ordinanza di chiusura fino al 25 aprile compreso della Scuola Secondaria Plesso Ciusa, della Scuola dell'infanzia Plesso Brianza e della Scuola Primaria Plesso Collodi, direzione didattica di Ismirrionis. Prima delle riaperture di tutti gli edifici scolastici si procederà alla sanificazione dei locali. Per quanto riguarda i casi di coronavirus, nel capoluogo sardo, in base all'ultimo report reso noto dal comune, sono 536 di cui 51 ricoverati in ospedale. Andiamo avanti, Arborea non è più covid free. A darne comunicazione è la stessa sindaca Manuela Pintus. Abbiamo avuto notizia, queste le parole della prima cittadina, di una positività confermata dal tampone molecolare e di tre emerse da analisi effettuata con tampone antigenico rapido. Le raccomandazioni sono sempre le stesse, ha voluto ribadire Manuela Pintus, rispetto delle distanze interpersonali, mascherine e igienizzazione delle mani. Il virus sta circolando, evitiamo di concedergli vantaggi, non rispettando appositamente le norme anti-covid-19. Alle persone contagiate vadano i migliori auguri di pronta guarigione. Le amministrazioni comunali di Maracalagonis e Settimo San Pietro hanno unito le forze per la creazione di un nuovo hub vaccinale, destinato a soddisfare le richieste dei loro residenti. Sentiamo il servizio. Le amministrazioni comunali di Maracalagonis e Settimo San Pietro hanno deciso di unire le forze, dopo alcune interlocuzioni con l'ATS, per creare un hub vaccinale presso il palazzetto dello sport, sito in località Samura, a Maracalagonis. Per uscire da questa situazione, ha detto la sindaca di Maracalagonis, Francesca Farda, che ha lavorato in sinergia con il collega di Settimo San Pietro, Gigi Puddu, è necessaria da parte delle istituzioni comunali e regionali una decisa accelerazione nella campagna di vaccinazione, in particolare per le persone anziane e per le categorie più fragili. La struttura entrerà in funzione in una data ancora da definire con l'ATS, ma si auspica che questo possa avvenire nel più breve tempo possibile, considerando che Maracalagonis e Settimo San Pietro aderiranno anche ai progetti vaccinali proposti dalla professoressa Mongiu con AD Adiuvandum, in collaborazione con l'ATS e Regione Sardegna, che fanno tutti insieme un lavoro spettacolare da tempo per il tracciamento del virus. Alcuni dei medici di medicina generale di Maracalagonis e Settimo San Pietro hanno dato la loro piena disponibilità e sono in attesa di essere contattati, così come gli infermieri della zona si sono messi a disposizione e hanno deciso di dare il loro contributo. Le operazioni saranno seguite da vicino anche dagli agenti della Polizia Locale e dai volontari della Protezione Civile di Maracalagonis e di Settimo San Pietro. Ed ora diamo uno sguardo al consueto aggiornamento regionale. Sono scesi a 199 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna su 19.916 test eseguiti, con una percentuale quindi dello 0,99%. Si registrano tre nuovi decessi, sono 1.318 in tutto, sono 367 più 1 rispetto a domenica, le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi e 61 più 3 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.579. Bentornati in studio. L'assessorato delle attività produttive del Comune di Iglesias, in seguito agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dell'8 e del 9 aprile, che hanno determinato significativi danni alle culture, al fine di permettere l'attivazione delle procedure previste dalla normativa regionale per il riconoscimento dello Stato di calamità naturale, invita gli imprenditori agricoli della città di Iglesias a segnalare presso gli uffici comunali gli eventuali danni subiti. Gli imprenditori agricoli, a livello individuale o attraverso le associazioni di categoria, dovranno fornire un report contenente nel dettaglio gli eventuali danni subiti e di riferimenti temporali. Sono stati diversi gli operatori economici, i pescatori, i cittadini, alcuni amministratori di Bugerru che ci hanno contattato per illustrarci le problematiche relative alla stasi del progetto per le opere di dragaggio e ripristino dei moli. Tempestivamente abbiamo dunque avviato le interlocuzioni tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Comune di Bugerru per lavori di dragaggio per salvare il porto insabbiato di Bugerru. A darne notizia sono la deputata Paola Adigliana e la consigliera regionale Desire Manca, entrambe del Movimento 5 Stelle. E vediamo ora invece un servizio su un fatto di cronaca verificatosi a Teulada dove i carabinieri hanno fatto piena luce su un furto avvenuto due mesi fa. Vediamo. I carabinieri di Teulada sono riusciti a venire a capo di un episodio delittuoso risalente a qualche tempo fa. Il tutto nasce da una denuncia querela presentata a febbraio scorso da una sessantenne del luogo. La donna aveva dimenticato aperta nel cortile di casa la propria auto Fiat Punto nell'abitacolo della quale aveva lasciato la borsetta contenente il portafogli. Una persona da bene se ne era accorta e si era appropriata di quest'ultimo oggetto contenente vari effetti personali e due carte magnetiche un bancomat e una posta pay. Quasi immediatamente dopo qualcuno era andato a fare due prelievi presso il bancomat della filiale del Banco di Sardegna di Teulada uno da 200 euro e uno da 300. Dalla visione delle immagini del sistema che è munito dalla postazione i carabinieri hanno individuato il prelevante. Il suo travisamento era molto alla moda e al passo quei tempi indossava infatti una mascherina anti covid. In realtà però chiunque ne avesse avuto pregressa conoscenza avrebbe potuto confermare trattarsi di un ventottenne incensurato molto conosciuto in paese in quanto il dispositivo di protezione individuale non ne proteggeva troppo la fisionomia. Forse con un cappuccio integrale sarebbe potuto sfuggire alla identificazione ma avrebbe dato molto nell'occhio. È stato denunciato dai militari che lo conoscevano personalmente per quell'indebito utilizzo di una carta di credito altrui e per la ricettazione della stessa perché è stato accertato anche che questa fosse nella sua disponibilità e non che fosse stato lui a rubarla dall'auto. Sembra essere diventata davvero insostenibile la situazione in via Logudoro, quartiere del Sorgio Ledda a Baunei. Ancora una volta il sindaco Salvatore Corrias ha inviato una lettera alla direzione generale di area e all'unità territoriale di Nuoro per chiedere un intervento risolutivo. Non è ammissibile questa la denuncia del primo cittadino che stante la disponibilità economica di 200 mila euro dopo tanti troppi anni la via Logudoro continua ad essere una strada sterrata, dilavata e pericolosa, priva dei requisiti necessari a farne una via residenziale a servizio di chi vive nel quartiere e di chi con ogni diritto rivendica la necessità di poterla praticare in sicurezza. Ci spostiamo ora a Lanusei. È stato lanciato un concorso di idee per la riqualificazione dello spazio ex cinema Alhambra. Vediamo. Prosegue l'opera di riqualificazione dell'area dell'ex cinema Alhambra voluta dall'amministrazione comunale di Lanusei presieduta dal sindaco Davide Burchi. È stato pubblicato un bando per un concorso di idee per l'acquisizione di proposte progettuali relative alla riqualificazione dello spazio con l'individuazione di un soggetto vincitore al quale affidare successivamente in base alle risorse economiche disponibili la fase della progettazione preliminare con procedura negoziata senza bando. Il concorso, ha dichiarato il primo cittadino, richiede ai partecipanti di redigere una proposta progettuale che sappia riqualificare l'area occupata dall'ex cinema Alhambra da poco oggetto di demolizione sita all'interno del centro storico del comune di Lanusei. L'area dovrà essere ripensata e riproposta con un modello funzionale che sappia unire le necessità di avere nuovi spazi vivibili nel rispetto del paesaggio e del contesto ma allo stesso tempo garantire spazi necessari per il parcheggio di auto. La posizione dell'area risulta infatti strategica per il raggiungimento del centro abitato ma soprattutto costituisce un'importante risorsa per i residenti di nuovi spazi utili per la sosta delle auto. Con questo ulteriore procedimento ha concluso Davide Burchi, unito e tanti intrapresi per la riqualificazione del centro urbano, l'amministrazione comunale confida nella ripresa in termini di fiducia sulle potenzialità del centro storico di Lanusei anche in termini di investimenti. Il concorso di idee è una grande apertura verso progetti ambiziosi con l'obiettivo di creare una visione in grado di mettere al primo posto il senso di comunità. Mettere in rete tre isole carcere di Alcatraz, Robben Island e Lasinara per promuoverle insieme nei mercati internazionali del turismo. L'ambizioso progetto è stato presentato nel corso di un incontro svoltosi in videoconferenza. Vediamo insieme un servizio. Mettere in rete tre isole carcere di Alcatraz, Robben Island e Lasinara per promuoverle insieme nei mercati internazionali del turismo. È l'obiettivo dell'incontro con il consolato italiano a Cap Town che si è svolto in videoconferenza tra il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas, l'assessora del turismo Gian Simona Tortu, il consigliere comunale Claudio Piras, l'ex sindaco di Castelsardo, ideatore del progetto Franco Cucuredu, il console Emanuele Poglio, il presidente e la segretaria dell'associazione assistenziale italiana in Sudafrica Francesco Solinas e Maria Grazia Galimberti. Hanno ospitato un carcere, ha dichiarato Simona Tortu, sono praticamente disabitate, sono sedi di parchi nazionali e aree marine protette. Il loro nome è ispirato dalla natura e hanno storie incredibili da raccontare. L'idea di questo progetto è nata otto anni fa, ha spiegato Franco Cucuredu, quando abbiamo intuito che la forza evocatrice del carcere poteva diventare uno straordinario attrattore turistico. Per Claudio Piras si tratta di siti che richiamano ogni anno milioni di turisti. Con questo intervento vogliamo scambiare buone pratiche, condividere modelli di gestione e trovare forme di collaborazione. Il console Emanuele Poglio ha manifestato apprezzamento per l'iniziativa e si è impegnato a sottoporre l'idea ai possibili partner istituzionali. La Municipalità di Cap Town, la provincia del Capo Occidentale e l'ente di promozione turistica del Sudafrica. Una disponibilità che ha ottenuto il plauso del Sindaco Massimo Mulas. Il progetto ha l'obiettivo di avviare azioni di promozione turistica e soprattutto creare ponti con altri territori del pianeta. Una scelta che può solo arricchirci e che promette sviluppi interessanti. 400 anni dell'Università di Cagliari Romano Prodi aprirà le celebrazioni della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. Sarà la relazione dell'ex Presidente del Consiglio della Commissione Europea Romano Prodi dal titolo Europe Today and Tomorrow ad aprire domani mattina alle 10 in diretta streaming le celebrazioni della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche inserite all'interno dei festeggiamenti per i 400 anni dell'Università di Cagliari. L'iniziativa sarà aperta dai saluti del Rettore Francesco Mora, del Presidente della Facoltà Stefano Usai e di Alessandra Carucci, coordinatrice locale della rete EDUC, l'Alleanza Europea tra Università di cui l'Ateneo Cagliaritano fa parte. Romano Prodi è già stato ospite dell'Università di Cagliari nel 2016 quando, invitato dall'allora rettrice Maria del Zompo, partecipò all'inaugurazione dell'anno accademico. I temi dell'Unione Europea e della internazionalizzazione sono caratterizzanti per i corsi di studio della Facoltà, assieme a quelli giuridici, economici e storici. Sono in programma anche due sessioni di lavoro parallele e altre due nel pomeriggio. Per l'Università di Cagliari parteciperanno Stefano Usai, Cristian Rossi e Gianluca Scrocco come organizzatori dei seminari. Luca Pantaleo, Roberto Di Quirico, Piotro Darius Grabara, Carlo Sanna, Valentina Serra e Federica Velli in qualità dei relatori nelle quattro sessioni di lavoro. Anna Maria Pinna, Nicola Melis e Giacomo Biagioni nel ruolo di Discussant. Veniamo alla cronaca. I carabinieri di Monastira, a seguito della querela presentata da un autista 37enne del luogo, hanno denunciato a piede libero per appropriazione indebita un 68enne carrozziere residente a Cagliari. Questi si era appropriato indebitamente di una Renault Clio ricoverata presso l'officina del figlio che si trova nell'agglomerato di Macchiaredu ed in cui il denunciato ricopre l'incarico di direttore tecnico. Mentre l'uomo girava indebitamente con quell'auto, all'insaputa del proprietario che l'aveva lasciata in officina per delle riparazioni, è stato fermato ad un posto di controllo dai carabinieri di Assemini. L'auto era sprovvista di copertura assicurativa e con revisione scaduta. Nella circostanza l'occasionale conducente non aveva neppure con sé la patente di guida. Verrà presentata venerdì 23 aprile 2021 la collezione Autunno-Inverno 2021-2022 su Feli di Filippo Grandulli ispirata dall'antica Donna Sarda. Vediamo il servizio. Venerdì 23 aprile 2021 verrà presentata online sul sito www.filippograndulli.it e su tutti i canali social il fashion film della nuova collezione di Filippo Grandulli su Feli. La collezione è una visione non di la scalica dell'austerità dell'antica Donna Sarda che il designer, noto per prediligere il colore nero nelle sue collezioni, ha messo su carta per il prossimo autunno-inverno. Su Feli è la parola sarda che indica l'arrabbia, uno stato d'animo comune in questo difficile momento che stiamo attraversando. L'arrabbia unita alla voglia di rivalsa e di ripresa. La donna Filippo Grandulli è quindi coraggiosa, elegante, forte e determinata. Da un'idea del creativo Daniele Coppie, grazie alla collaborazione di una squadra di professionisti sardi sulle note del brano Bello, composto da Marascia, prende vita una sfilata di moda dall'atmosfera onirica che sottolinea quanto il nostro territorio abbia da offrire sotto tutti i punti di vista. Fondamentale la disponibilità e la concessione dei proprietari del villaggio minerario Asproni, esempio di architettura mineraria privata tra le verdi colline del Sulciglesiente che ha da poco iniziato un importante progetto di recupero. Per questa collezione ho coinvolto diversi artigiani gli artisti che hanno realizzato esclusivi accessori. Ho trasformato i cestini sardi realizzati in carta da Angela Boeddu in cappelli e disegnato vistosi orecchini prodotti da Furigherda. È un video carico di intensità e voglia di ricominciare da parte di tutti quelli che hanno lavorato per realizzarlo. Grazie a tutti, ha detto il designer Filippo Grandulli. Veniamo allo sport. La sconfitta interna subita domenica con il team Nuova Florida, seguita alle due vittorie consecutive ottenute in tre giorni sui campi di Afragolese e Nola, è costata la panchina al tecnico della Torres Archimede Graziani, esonerato ieri sera dalla società guidata dal presidente Salvatore Secchi. Vediamo dunque un servizio preparato da Gianpaolo Cerronis. La Torres ha esonerato il tecnico Archimede Graziani. Fatale la sconfitta interna subita domenica con il team Nuova Florida. La decisione è stata annunciata ieri sera dalla società con un breve comunicato. Il 56enne tecnico di Carrara era arrivato a Sassari alla vigilia di Natale al posto dell'esonerato Aldo Gardini quando la squadra rosso-blu era penultima in classifica con quattro punti in otto partite frutto di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte. Il bilancio di Archimede Graziani è stato di quattro vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, 19 punti in 19 partite, una media di un punto da partita purtroppo ancora da retrocessione. I momenti più positivi della sua gestione sono stati sicuramente lo squillante 4-1 inflitto al Carbonia nel derby della prima giornata di ritorno e le due vittorie esterne ottenute domenica e mercoledì scorsi sui campi di due dirette concorrenti per la salvezza a Fragolese e Nola con i punteggi di 2-0 e 3-2. Sembrava questa la svolta ma a domenica ritorno all'acquedotto e maturata l'inattesa sconfitta con il team Nova Florida 1-0 e la società ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico. Nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo allenatore, circola insistentemente quello di Mauro Giorico, 61 anni, originario di Porto Torres, già alla guida della Torres in eccellenza nella stagione 2011-2012 quando condusse la squadra Rosso-Blu alla promozione in Serie D con 10 punti di vantaggio sull'Olbia. Il suo nome circolava anche ad inizio stagione dopo le prime sconfitte della gestione di Aldo Gardini. In carriera Mauro Giorico ha guidato anche Alghiero, Fertilia, l'Olbia in Serie C e l'Arzachena. Ancora per lo sport quello del 17 e 18 aprile è stato un weekend di gare intenso per gli atleti della Succis Atletica Carboni e impegnati il 17 a Sant'Adi nella manifestazione provinciale su pista di interesse nazionale ed il 18 a Cagliari con le gare di contorno al campionato regionale assoluto dei 10.000 metri su pista. Sentiamo il servizio. Quello del 17 e 18 aprile è stato un weekend di gare intenso per gli atleti della Succis Atletica Carboni impegnati il 17 a Sant'Adi nella manifestazione provinciale su pista di interesse nazionale organizzata dal neonato comitato provinciale del Succis Medio Campidano del quale è stato eletto presidente Antonello Murgia e il 18 a Cagliari con le gare di contorno al campionato regionale assoluto dei 10.000 metri su pista. Come ormai succede da un mese a questa parte la pioggia ha accompagnato le gare e non solo quella atmosferica ma anche quella relativa ai piazzamenti degli atleti e ai nuovi primati personali. A Sant'Adi si sono svolte prevalentemente gare cadetti relative al settore corse e lanci. Negli 80 metri cadetti continua il gran progresso del talentuoso Luca Manai piazzandosi al terzo posto. Nella gara dei 600 metri cadetti lo stesso Manai ha invece conquistato il secondo posto con l'ottimo tempo di 1.37.85 nuovo primato personale. Nella stessa gara buoni piazzamenti di Sergio Aresu e Matteo Sanna. Nella gara degli 80 metri cadette strepitosa prestazione di Iris Chirigu che vince la gara e abbassa ancora il proprio personale portandolo a 10.64. Al nono posto Angelica Tuveri all'esordio sulla distanza. Nei 600 metri cadette invece undicesimo, tredicesimo e diciannovesimo posto rispettivamente per Giulia Marongiu, Rebecca May e Giulia Martini. Nel lancio del peso cadette a conquistare il primo posto è stata Esther Pizzalis, secondo posto invece per Angelica Tuveri. Nel lancio del giavellotto cadette da 400 grammi, secondo posto per Iris Chirigu, quarto posto per Rebecca May, quinto per Giulia Marongiu e sesto per Giulia Martini. Anche nel campionato assoluto regionale dei 10.000 metri disputatosi a Cagliari per i sulcitani è stata una vera e propria pioggia di risultati brillanti. Con questa notizia di sport il nostro telegiornale si chiude qui. Io vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e vi ringrazio per essere stati con noi e per l'attenzione. Vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG40. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.